Emergenza coronavirus in Abruzzo, emersi 21 nuovi casi dalla scorsa notte. Chiusi due pronti soccorsi in Marsica, sono quelli di Taia Cozza e Pescina per mancanza di personale. Covid-19, appello dell'assessore Verì, preoccupazione per l'aumento dei contagi. Bloccato il centro del riuso, il centro giuridico del cittadino di Avezzano ne chiede l'immediata riapertura. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Anche oggi gran parte delle notizie sono riferite all'emergenza del Covid-19. Naturalmente ne parliamo con riferimento particolare alla regione Abruzzo, alla provincia dell'Aquila e dalla Marsica. Dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 21 nuovi casi positivi al Covid-19. Due casi riguardano l'asl Avezzano sul Mono l'Aquila e fanno riferimento a due uomini. Nell'asl Lanciano-Vastoichieti si registrano quattro casi, tre donne ed un uomo. Tredici nell'asl di Pescara, sette donne e sei uomini. Una donna è infine risultata positiva nell'asl di Teramo. Con gli ultimi positivi salgono a 75 casi quelli nuovi di Covid-19 in Abruzzo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Nelle notte sono arrivati i risultati del tampone del Presidente della Regione, Marco Marsilio, negativo al Covid-19. Negativi anche i test effettuati sui laboratori del Governatore abruzzese. Un primo caso di coronavirus è stato registrato anche a Castel di Sangro, come ha annunciato il sindaco Angelo Caruso. Si tratta di una persona stimatissima e dalla quale va la nostra vicinanza. A lui e a tutta la famiglia, ha detto il primo cittadino. Nel corso della notte, come abbiamo detto, è arrivato l'esito del tampone effettuato ieri che ha escluso il contagio da coronavirus del Presidente della Regione, Marco Marsilio. Non avevo molti dubbi, ha detto, vista l'occasionalità del contatto avuto con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ma è stato giusto adottare tutte le precauzioni, seguire con disciplina i protocolli sanitari e le regole che stiamo imponendo a tutti i cittadini per contenere, combattere e sconfiggere il virus. Il Servizio di Prevenzione e Tutela della Salute della Regione ha ufficializzato nel tardo pomeriggio la nuova situazione in Abruzzo. Nella nostra Regione, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 74 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. 49 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 10 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLA. Dall'inizio dell'emergenza, al coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 401 test, di cui 327 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 8 si riferiscono all'ASLA Vezzano su Buonaracola, 15 all'ASLA Lanciano Vastoichieti, 43 all'ASLA di Pescara e 8 all'ASLA di Teramo. Va precisato che il numero elevato dei casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della Regione. L'ASLA provinciale dell'Aquila ha chiuso il punto di primo intervento dell'ospedale di Tagliacozzo per questioni organizzative e per carenza di personale, considerata la carenza di personale a pronto soccorso di Avezzano. A comunicarlo e a rendere efficace il provvedimento è una circolare dell'ASLA di Avezzano sul Monaracola. Secondo l'ASLA, la stessa decisione di chiusura, dovuta però al personale in quarantena, è stata adottata per la struttura di Pescina, dove nei giorni scorsi ha lavorato il medico risultato positivo al coronavirus e ricoverato al reparto malattie infettive dell'ospedale del capologo regionale. Lo stesso medico ha polmonite e febbre alta. I due presidi di primo soccorso della Marsiga sono stati bloccati per mancanza del personale, quello di Pescina per eccessiva congestione e quello di Tagliacozzo per questioni organizzative. Il personale medico che era in servizio a Tagliacozzo sarà riempiegato ad Avezzano. Una scelta non facile, quella adottata dall'ASLA, che ha portato alla chiusura del punto emergenziale di Tagliacozzo. Il medico di cerchio, risultato positivo al covid-19, ha lavorato oltre che a Pescina anche al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano per un turno ed è stato sanificato mentre gli operatori che hanno avuto contatti con lui sono in quarantena. Per la precisione, lo stesso medico non aveva svolto servizio a Tagliacozzo. La moglie invece è collaboratrice scolastica proprio nella scuola di Tagliacozzo. E sempre per quanto attiene l'evoluzione della malattia legata al medico marsicano di cerchio, risultato positivo al coronavirus, c'è da dire che la moglie è una collaboratrice scolastica in servizio in una scuola di Tagliacozzo. Si era sottoposta all'esame per capire se aveva contratto o meno il virus. Dalle analisi, il tampone ha risultato negativo al pari del figlio e degli altri componenti della famiglia. L'esito del tampone, cui è stata sottoposta la signora collaboratrice della media Argoli, è negativo. Lo ha confermato anche il sindaco di Tagliacozzo, Giovagnorio. Ho parlato, ha detto telefonicamente, con la collaboratrice che è stata sottoposta al tampone per la verifica del contagio del Covid-19, il quale è risultato negativo, cioè la signora non è affetta dal Covid-19. Mi sono rallegrato con lei ed ho formulato i rallegramenti della nostra comunità di Tagliacozzo con l'auspicio di riaverla presto al nostro istituto scolastico. Ho inoltre formulato gli auguri più affettuosi per una pronta guarigione della consorte attualmente ancora ricoverata. La signora, comprensibilmente emozionata e commossa, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla sua situazione e a quella della sua famiglia. Ed ora il ragionamento più importante l'ha proposto l'assessore regionale alla sanità che ha lanciato un allarmo con molta preoccupazione. Ho il dovere, scrive, di rivolgere un ulteriore ed accorato appello a tutti gli abruzzesi affinché evitino di uscire di casa e di spostarsi se non è strettamente necessario. I contagi, infatti, stanno aumentando di giorno in giorno ed è indispensabile ridurre al minimo la possibilità di circolazione del virus. Lo sottolinea l'assessore alla salute Nicoletta Veri che torna a chiedere uno sforzo ancora più importante all'intera comunità regionale. Purtroppo, continua l'assessore, continuiamo ad assistere, nonostante tante raccomandazioni, a comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio la salute di tutti noi. Lo ho detto nei giorni scorsi, non stiamo vivendo un film di genere catastrofico. Questa invece è la realtà e aspetta a noi impegnarci per arrivare al lieto fine prima possibile. Il nostro sistema sanitario regionale, prosegue la Veri, è sottoposto ad uno stress enorme, ma i tanti professionisti che da giorni lavorano senza sosta all'interno delle strutture ne stanno garantendo la tenuta e le cure agli ammalati. Le risorse però non sono infinite e qui entra in gioco il senso civico e di responsabilità di ogni singolo cittadino. Non creiamo situazioni inutilmente rischiose per questi uomini e donne che sono in prima linea per tutti noi. E soprattutto evitiamo comportamenti pericolosi ed evitabili che andrebbero a gravare su una rete già in emergenza. Ci sono zone della nostra regione, aggiunge, in cui abbiamo registrato casi ancora non completamente tracciati e su cui c'è una altissima attenzione da parte dei clinici. Allo stesso modo però voglio evitare i cittadini alla calma e da non farsi prendere dal panico, ma di contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia e comunicare eventuali ed inspiegabili peggioramenti del proprio stato di salute. Fidiamoci di quello che ci dicono gli infettivologi, che sono gli unici a stabilire i sintomi che giustificano l'effettuazione di un tampone. Inutile nascondere, conclude l'assessore, che la situazione è seria e non va assolutamente sottovalutata. Proseguono le iniziative e le attività di coordinamento della Prefettura dell'Aquila in merito alla situazione dell'emergenza connessa alla diffusione sul territorio nazionale del coronavirus Covid-19. In un comunicato si fa presente che è stato attivato un tavolo di monitoraggio che sempre in Prefettura ed attraverso il coinvolgimento di più soggetti istituzionali che potranno intervenire anche in videoconferenza, avrà il compito di aggiornare di ora in ora l'evolversi delle attività messe in atto a contrasto della diffusione del virus. Nella serata di ieri si è tenuta una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica con la presenza del Sindaco dell'Aquila e di rappresentanti degli altri enti e delle forze dell'ordine allo scopo di coordinare e pianificare le misure più stringenti per adottare e per contrastare le eventuali situazioni di elusione di divieti in atto disposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore anche attraverso l'intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine con il concorso coordinato delle polizie municipali. Il Prefetto Cinzia Torraco invita la popolazione a rispettare le indicazioni trasmesse dal Governo con il consueto senso civico e con la cittadinanza aquilana che ha sempre dimostrato di avere specie in situazioni emergenziali che tutti adottino comportamenti responsabili a tutela della propria salute e di quella degli altri in particolar modo delle fasce di popolazioni più esposte ai rischi. Per ogni informazione inerente alla problematica e per la risposta a qualunque interrogativo si possono consultare i siti istituzionali del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute che contengono anche una serie esaustiva di informazioni sull'argomento oltre che quello della Regione Abruzzo. Il Sindaco di San Benetto dei Marsi, Quirino Dorazio, ha reso noto di aver richiesto alla Presidente della Regione Abruzzo, all'Assessore alla Sanità regionale e dal Direttore dell'ASL 1 Avezzano sul Mono all'Aquila il potenziamento del Presidio territoriale di assistenza di Pescina al fine di fronteggiare in maniera più efficace all'interno del territorio marsicano l'emergenza epidemiologica del Covid-19. All'indomani delle dichiarazioni rilasciate dal Governo, scrive Dorazio circa lo stanziamento dei fondi per combattere l'emergenza in atto e della emanazione dell'ordinanza del 9 marzo da parte del Presidente della nostra Regione con la quale si prevede tra l'altro l'acquisto di apparecchiature sanitarie l'incremento dei posti letto nei reparti di terapia intensiva ed il potenziamento dei presidi sanitari locali ora attendiamo l'adozione di quei provvedimenti concreti che le nostre comunità legittimamente si attendono siamo ben consapevoli delle enormi difficoltà che ci troviamo davanti ma vogliamo essere fiduciosi ci auguriamo poi che il trasferimento del personale medico sanitario disposto verso altre strutture ospedaliere sia solo strettamente momentaneo e che sia dettato solo da necessari motivi di sicurezza degli operatori medico sanitari e dei pazienti rivolgo infine un appello affinché tutte le forze coinvolte in questa difficilissima sfida siano esse appartenenti al mondo della politica della sanità o della collettività comprendano che questo è il momento in cui bisogna stringersi a corte rispettando scrupolosamente le regole e collaborare come non si è fatto mai in passato solo così avremo la speranza di salvare noi stessi e di contribuire a salvare il sistema Italia Commercio dell'Aquila in una nota inviata agli associati a firma del Presidente Roberto Donatelli specifica che a seguito del chiarimento intervenuto da parte della FIDA la Federazione Italiana dei Taglianti dell'Alimentazione in merito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo sull'emergenza coronavirus ed in particolare sulle disposizioni contenute all'articolo 1 precisa che ad oggi e salvo successive disposizioni la chiusura nei giorni festivi e prefestivi sabato e domenica è disposta solo ed esclusivamente per le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare i punti vendita del settore alimentare ovunque ubicati e di qualsiasi dimensione possono restare sempre aperti pertanto supermercati, ipermercati del settore alimentare anche qualora presenti all'interno dei centri commerciali possono restare aperti al pari delle farmacie e delle parafarmacie nei giorni festivi e prefestivi e tutte le sedi e i laboratori di Art Abruzzo rimarranno in funzione e garantiranno l'attività ordinaria e le analisi relativamente alle acque putabili così come richiesto dalle ASL competenti e al contempo è stato approvato uno specifico regolamento quale ulteriore misura per contrastare e contenere la diffusione l'emergenza epidemiologica di Covid-19 a comunicarlo dal direttore generale di Art Abruzzo Francesco Chiavoroli entro la fine di marzo, spiega ai Chiavoroli i distretti completeranno i prelievi dei campioni di acqua sottoreane e superficiali del primo trimestre dei monitoraggi regionali mentre saranno interrotti i campionamenti di acqua e discarico siti incontaminati, rifiuti, controlli AIA e AUA ed in generale ogni prelievo o attività che comporti il contraddittorio o la presenza di persone estranei non dipendenti dall'Agenzia inoltre si stabilisce che fino a nuove disposizioni i laboratori non effettueranno attività che presupponga contraddittorio con persone esterne all'Agenzia ad esclusione delle attività urgenti o in emergenza e da seguito del clima di grande preoccupazione dato dall'evolversi dell'epidemia di Covid-19 in Italia l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali vuole diffondere una corretta informazione in merito al rapporto tra il virus in questione e gli animali da compagnia è stato infatti dichiarato dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che il CEPPO in questione si trasmette unicamente da uomo a uomo e non vi sono prove tangibili della trasmettibilità della malattia da parte degli animali da compagnia Commercio L'Aquila, ancora in una nota, inviati ai propri associati rende noto che mentre il Governo sta valutando la possibilità di attuare misure più restrittive per combattere l'emergenza del coronavirus quali la chiusura obbligatoria delle attività fatta eccezione per i negozi di genere alimentari invita a tutti coloro che in autonomia o con l'intento di contribuire al contrasto delle difficoltà del virus hanno deciso di sospendere la propria attività o hanno in animo di farlo di darne comunicazione a mezzo PEC al SUAP del Comune, sede dell'attività Per tutte le informazioni si può contattare la Comfcommercio all'indirizzo mail avezzanochioccia.commercioacu.it Ed ora cambiamo argomento Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del cittadino di Avezzano ha sorlecitato al commissario e prefettizio Mauro Passerotti l'adozione di provvedimenti necessari alla realizzazione del centro del riuso localizzato in via Generale Rubio Ricorda che sono trascorsi più di due anni da quando fu deciso di realizzare il centro di riuso di Avezzano L'iter è stato completato e visto che l'opera la pagano tutti gli utenti chiede di sapere quando partono i lavori e quando termineranno non è accertabile specifica che un'opera con accertata copertura finanziaria non venga realizzata celermente Di Bastiano ripercorre l'iter del progetto iniziato con determinazione dirigenziale nel mese di aprile 2017 a seguito di procedura ad evidenza pubblica Il servizio di realizzazione ed il mantenimento del decoro del territorio e dell'igiene urbana è stato aggiudicato definitivamente alla società Tecneco L'aggiudicatario nell'ambito del contratto in corso è tenuto a realizzare un secondo centro di raccolta ed il centro del riuso per l'importo offerto in sede di gara oltre a 100.000 euro mediante fondi di sviluppo e coesione Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2019 è stata approvata definitivamente la variante al piano regolatore generale per l'area già individuata per la costruzione del nuovo centro di via generale rubia Il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del secondo centro di raccolta e centro del riuso è stato prodotto dalla Tecneco Sistemi il 19 aprile 2019 L'importo complessivo di oltre 462 milioni di euro è finanziato con fondi della Regione e della Tecneco La stessa Tecneco doveva realizzare l'intera opera al momento conclude di Bastiano Tutto è fermo Nonostante le istituzioni nazionali e locali ritengano in questo momento primaria l'attenzione verso l'emergenza coronavirus il governo regionale ha stanziato 300 mila euro per la provincia dell'Aquila per importanti interventi di manutenzione idraulica e messa in sicurezza ha annunciato Roberto Sant'Angelo vicepresidente vicario in Consiglio regionale Questi fondi fanno parte di un pacchetto di 11 azioni per un totale di oltre un milione e mezzo di euro distribuite sul territorio delle quattro province in particolare nell'Aquilano sono stati stanziati 25 mila euro per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria sul Monaterni, località del comune di Molina Aterno e Castelvecchio-Subeco 75 mila euro per servizi di piena e manutenzione idraulica per la parziale demolizione dell'arge del fiume Sagittario in località Capo Canale 200 mila euro per la strada comunale Campotosto-Urtolano che versa in uno stato di gravità geomorfologica ha spiegato Sant'Angelo Il mio ringraziamento è rivolto al governo regionale e in particolare al sottosegretario Umberto D'Annunzis per aver su mia sollecitazione accolto le istanze che provengono dal nostro territorio Bene, anche per oggi abbiamo terminato prima dei saluti e ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche vecchi servizi di Antena 2 realizzato nel corso degli ultimi anni Grazie per raggiunti di attenzione ed appuntamento alla prossima edizione del telegiornale Grazie per raggiungerci